La Puglia fa bella mostra di sé portando i suoi prodotti in due manifestazioni, una di carattere internazionale dal 17 al 21 ottobre al Sial di Parigi e l'altra dal 21 al 25 ottobre in Italia, a Torino, nel Salone del Gusto, uno degli eventi più importanti a carattere nazionale. Al Sial di Parigi saranno 27 le aziende che rappresenteranno la regione, tra i 5.600 espositori presenti provenienti da 150 paesi. La manifestazione è un'occasione per proporre le specialità enogastronomiche pugliesi e per creare nuovi contatti commerciali. Posto d'onore è riservato al vino rosato. Parlare del vino pugliese nella nazione che domina i mercati in questo settore è un riconoscimento importante. Il 18 ottobre in uno dei più prestigiosi ristoranti parigini, accademici, studiosi ed esperti si confronteranno su quale potrebbe essere la migliore strategia per la promozione dei vini rosati. Due vetrine importanti. Oggi presentiamo due eventi di spessore internazionale ai quali la regione Puglia e le sue aziende partecipano, ma partecipano con una dimensione qualitativa importante. Presentiamo il Sial, il Salone Internazionale dell'Alimentazione a Parigi, uno dei più grandi saloni sul tema al mondo, e poi il Salone del Gusto, un appuntamento che ormai caratterizza l'autunno italiano ed europeo. Dicevo la bussola è sempre quella della qualità, abbiamo proposte importanti che portiamo in queste occasioni al Sial, ad esempio, che ricordo si realizza a Parigi. I vini rosati pugliesi sono oggetto di una interessantissima iniziativa di degustazione messa, realizzata in collaborazione con l'Accademia Italiana della Vita e del Vino, con l'OIV, che è l'organismo intergovernativo internazionale in materia di vite e di vino, e con il Centro di Ricerche sul Vino della Repubblica Francese. È un'attestazione verso la nostra esperienza produttiva, i nostri prodotti, il fatto che questa degustazione la si realizzi in Francia con questi partner importanti, significa a chiare lettere che il vino rosato pugliese è un vino che da grande protagonista recita un ruolo anche a Parigi in questa manifestazione. La Regione Puglia, in controtendenza al dato nazionale, negli ultimi due anni ha incrementato fortemente le risorse sul comparto agricolo, facendo un investimento strategico. Il sistema agroalimentare è uno dei sistemi portanti dell'economia pugliese, sul quale stiamo continuando a dedicare grande attenzione, sebbene in un momento di grande difficoltà che la crisi ci procura e che non procura solo alla Puglia. Il sistema tiene e questo a dimostrazione di quanto negli ultimi anni sia cresciuto e abbia consolidato una fase nella quale si è passati dall'essere produttore primari ad essere produttori di prodotto trasformato, finito. Vent'anni fa noi producevamo soltanto dell'uva che veniva tagliata su vini più blasonati e oggi il sistema del vino produce degli ottimi vini che vengono degustati anche al Sial e questo ci dà ragione di un percorso che abbiamo già realizzato ma che ci resta da completare. A Torino invece per il Salone del Gusto tra i 900 stand allestiti 60 sono già prenotati per la Puglia. Sono 48 aziende del comparto agroalimentare affiancate da 12 aziende che rappresentano i presidi pugliesi, quindi il meglio dell'agroalimentare che va dalla Daunia fino al Salento. Con queste poi 60 aziende realizzeremo, con i prodotti delle 60 aziende, realizzeremo numerosi momenti di degustazione, dei laboratori del gusto, delle dimostrazioni per far conoscere le eccellenze di queste aziende. Quali sono le eccellenze su cui puntate? Le eccellenze sono soprattutto sei macro aree che vanno dall'olio al vino ai formaggi, quindi prodotti caseari, salumi e carni, il vino e i dolci e l'ortofrutta. Queste sono le sei macro aree con cui realizzeremo le nostre degustazioni, dimostrazioni di quello che è il cibo pugliese e anche la cultura dell'acquaglienza pugliese. Sulla qualità del vino non abbiamo dubbi, ma come si colloca a livello nazionale l'olio pugliese? L'olio pugliese sta facendo i suoi passi, lentamente ma sta facendo i suoi passi. Stiamo prima prendendo noi coscienza di quello che è la forza dell'olio extravergine di oliva, quindi abbiamo imparato anche noi a fare qualità. Stiamo facendo anche un bel packaging, quindi stiamo mettendo insieme quello che era la forza delle altre regioni e quindi il saper vendere il nostro olio e quindi raggiungere un prezzo qualitativo che sia corretto a quelli che sono gli sforzi che le aziende pugliesi fanno e quindi dare finalmente valore all'olio, non solo l'olio toscano dove vendevano la Toscana, noi adesso incominciamo a vendere la Puglia.